L'idea iniziale era che l'ingegnere Iachini restasse come presidente, quindi non eravamo pronti nella giornata di ieri ad affrontare questo tema e poi la scelta dell'ingegnere e anche di tutti i suoi consulenti è stata quella invece di non partecipare al consiglio di amministrazione e quindi non avere un ruolo in società e io come sapete sono il presidente del FIUG e quindi oggi questa cosa mi era, mi devo diciamo di mettere da una parte per poter fare il presidente del Teramo perché come sapete con le criticità nate con il caso Salernitana, con la problematica del Bari e dei laurenti se c'è una norma da aprile che comunque anche se siamo in leghe diverse impedisce di essere tesserati per per diciamo motivi calcistici mentre la proprietà tra virgolette può essere anche plurimane nel senso che io posso essere proprietario di più società in varie leghe o addirittura nella stessa lega ma il tesseramento può essere uno solo quindi da qui a qualche settimana valuteremo anche questa situazione. Tutti sanno qual è la mia stima per Emanuele Padella, questo non significa che potrei essere un giocatore del Teramo, assolutamente no, anche perché è un tesserato di un'altra società però lui sa che io nutro molta stima nei suoi confronti e sarebbe per me veramente un sogno riuscire a portarlo a Teramo, chiaramente andranno verificate le sue disponibilità, le disponibilità della società ad accederlo, però visto che è uscito fuori questo nome mi fa piacere rimarcarlo perché poi insomma lui è anche il ragazzo che segnò il gol del 3 a 2 della semifinale e ci portò a disputare comunque quella finale playoff, insomma ricordo benissimo le sue dichiarazioni a fine partita, quindi è un ragazzo che tengo veramente sempre nel cuore. Un tentativo per gennaio magari si potrà fare? No no, questo vi do per certo che lo faremo, però ripeto oggi dobbiamo rispettare il fatto che è un calciatore di un'altra società e quindi la società magari non ha nessuna voglia ma lui stesso magari non, però sicuramente è un ragazzo che andremo a sondare la possibilità che lui possa magari valutare questa opportunità, se non erro credo che poi lui sia stabilmente ad Ascoli, quindi sarebbe anche logisticamente probabilmente vicino. Tra domani e dopodomani dovrebbe essere sicuramente ufficializzato il portiere, per quello che riguarda il difensore magari ci può essere qualche giorno di lavoro in più, non so se riusciremo ad ufficializzarlo e se gli accordi riusciremo a concluderli già in questa settimana. Più che sostituire giocatori probabilmente si tratta di integrarli e punterlarli con 3-4 elementi che possano dare anche più garanzia nel momento in cui c'è la squalifica, c'è l'infortunio e quindi la squadra possa essere un po' più serena.